Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza l'integrazione alla nota di aggiornamento al DEFRO 2022, la seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, approvati con il voto unanime dell'Aula anche due ordini del giorno, il primo presentato da Fratelli d'Italia in merito al sostegno regionale alla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e un ordine del giorno della Lega in merito al taglio delle classi nelle scuole toscane. Sul Maggio Fiorentino l'atto di indirizzo impegna il Presidente e la Giunta regionale a fare una verifica puntuale delle spese effettuate con i contributi regionali a favore della Fondazione e a non stanziare ulteriori contributi fino a che non sia fatta chiarezza sull'opportunità e congruità delle spese effettuate dal Sovrintendente Pereira, valutate come anomale. Io direi che la manovra economico-finanziaria che ha principalmente l'obiettivo della chiusura del bilancio 2021 del bilancio sanitario e quindi della materia più importante che la Regione si trova a affrontare come competenza in via esclusiva è stato molto positivo. Devo dire anzi sotto questo aspetto il dibattito ha riscontrato una serie di indicazioni, suggerimenti ma complessivamente ho visto la soddisfazione dell'intero Consiglio regionale perché questo consente di rimediare a ciò che le spese per il Covid avevano portato a espandere il bilancio 2021. Noi sostanzialmente abbiamo dovuto trasferire con quest'ultimo atto che è un atto di poco più di 50 milioni ma in complesso in un anno e mezzo più di 400 milioni di spese di bilancio da quello che sono i capitoli dei vari assessorati tutti sulla sanità per poter chiudere. Ma ce l'abbiamo fatta con l'obiettivo fondamentale non gravare con ulteriori imposte e tasse ai cittadini. Tutto all'interno del bilancio senza aumentare le imposte. Dall'altra è evidente che le variazioni bilancio contengono anche la capacità di rispondere a una serie di problemi concreti ma direi proprio di elettoralistico non c'è niente. Tanto è vero che anche nelle ultime indicazioni di variazione abbiamo messo i 9 milioni e mezzo per la bonifica delle falde nella città di Piombino. Interventi che possono creare le condizioni perché lo Stato investa anche esso e quindi risorse su una bonifica attesa da anni e risorse sul prolungare la graduatoria degli impianti sportivi. L'impiantistica sportiva era arrivata ad avere più di 200 domande tutte da comuni. In realtà sapendo che potevamo rispondere solo a 50 positivamente con questa integrazione di 9 milioni e 370 noi arriviamo a coprire almeno un'ottantina i comuni. Non arriviamo nemmeno alla metà di quanti hanno fatto la necessaria domanda ma ce la facciamo. L'abbiamo messo in questa variazione perché i soldi devono essere impegnati entro l'anno e chi ha partecipato a un bando è naturalmente previsto li possa spendere perché ai progetti esecutivi entro l'anno. Poi tutta un'altra serie di indicazioni ma sostanzialmente è una variazione di bilancio che consente di dire dopo queste sì tante polemiche ho vissuto per mesi buchi, disavanzi nella sanità. No, non c'è nessun buco e disavanzo. Abbiamo chiuso in pareggio il bilancio 2021 nonostante che sulla regione toscana come sulle altre regioni sono gravate la gran parte delle spese covid per organizzare gli hub, per assumere il personale, per garantire i servizi. Insomma un modo che dimostra ancora una volta l'efficienza della sanità in Toscana. Ci sono tanti interventi di spese in questa variazione al bilancio di previsione 2022-2024 che vanno dal sostegno alle scuole dell'infanzia paritario, alle scuole materne non statali, alla banda ultralarga in aggiunta ai fondi europei fino ad arrivare alle iniziative dello spettacolo per la celebrazione di ricorrenze specifiche, alle quali sono destinate oltre 370 mila euro. Ci sono soprattutto una serie di misure che vengono destinate al sistema aviario toscano, in particolar modo oltre 6 milioni di euro sono destinate alla variante di Gassano nel comune di Fivizzano ma ancora 3 milioni di euro alla provincia di Grosseto e così anche oltre 2 milioni di euro al comune di Stazzema. Ci sono poi una serie di interventi che sono finalizzati al recupero del patrimonio e dei beni immobili presenti nel territorio regionale. Ricordiamo i 500 mila euro che vanno al recupero della ex scuola elementare di Bergeola Foscalina a Carrara ma ancora una serie di interventi per il recupero del patrimonio della Chiesa nel comune di Barberino del Mugello fino ad arrivare a 800 mila euro destinate al comune di Aulla per il recupero della sala polifunzionale che è stata profondamente lesa dai danni dell'alluvione del 2011. Si tratta di interventi significativi ai quali si provvede con una copertura finanziaria che in parte si avvale del ricorso al credito con una revisione dei massimali di autorizzazione all'indebitamento ma dall'altra parte si tratta di una misura che mette in garanzia o prova a mettere in garanzia la Regione Toscana rispetto al recupero del disavanzo sulla sanità derivante dagli effetti della pandemia. Vengono infatti liberate risorse che vengono destinate proprio al recupero del disavanzo per oltre 38 milioni di euro a queste si devono aggiungere le risorse disponibili sul fondo di riserva che vengono implementate di quasi 20 milioni di euro e questo dovrebbe darci la prospettiva anche se margini di incertezza ci sono ancora di far sì che la Regione Toscana possa rientrare del famoso disavanzo di cui si è a lungo parlato dovuto appunto agli effetti della pandemia. Quindi una misura importante, quella che è stata licenziata dal Consiglio regionale che per la seconda volta dall'inizio di quest'anno va ad arricchire il territorio toscano di una serie di interventi che sono il frutto di necessità di spesa soprattutto di investimento che non erano preventivabili al momento in cui si è adottato il bilancio nel dicembre del 2021. Risposte concrete per il territorio toscano e soprattutto molti aiuti agli enti locali, province e comuni soprattutto come si è detto sul fronte della risistemazione del sistema aviario e del recupero degli immobili. Il periodo è delicato e difficile, tra i più delicati e difficili nella storia anche della regione toscana. Il governatore Gianni sta portando avanti un modo di fare che non ci piace, che rifiuta la condivisione, la partecipazione e il dialogo con le opposizioni. Anche questa volta portate in aula degli emendamenti all'ultimo tuffo, ma io direi ancora di più, in commissione non si è presentato né in fase di illustrazione né di voto referente. Io le mie domande ho dovuto farle in aula. Eravamo abituati a ben altro atteggiamento da parte dell'ex assessore Bui. In regione toscana continua un immobilismo, un conservatorismo che non è degno della storia della nostra regione. La situazione è veramente complicata. Consideriamo che l'aumento dei costi energetici potrebbe coinvolgere fino a 15.000 imprese e a 117.000 cittadini toscani. Queste sono le cifre impietose. E noi cosa troviamo? Troviamo un documento economia e finanza che manca della nota di aggiornamento come se il mondo fosse rimasto lo stesso. E nel mezzo vi è stata una pandemia, siamo purtroppo di fronte a una guerra nel cuore dell'Europa. E soprattutto vediamo un collegato di interventi che sono sempre riconducibili a scelte discrezionali del governatore. Mentre noi riteniamo si debba privilegiare lo strumento del bando per una maggiore trasparenza. Noi lo diciamo forte e chiaro. Questo modo di fare del governatore non ci piace. Così la Toscana non può essere portata avanti. L'opposizione sarà sempre più dura. Perché se non veniamo ascoltati noi alzeremo ancora di più la nostra voce. È ovvio, le spese sanitarie vanno coperte e per l'ennesima volta la Regione insieme allo Stato ha ripianato il buco delle ASL che è ammontato, ci ha spiegato il Presidente di Commissione, a circa 550 milioni di euro sfiorando il commissariamento della Sanità Toscana. Ma oltre a questo ci sono tutta una serie di interventi a pioggia inseriti all'interno di questa manovra di bilancio senza una reale programmazione. Tant'è che Anci e UPI hanno criticato con una lettera aperta la Regione perché non ha svolto la concertazione adeguata sulla manovra di bilancio e soprattutto denunciando il fatto, come noi denunciamo da molti mesi, che questa amministrazione procede ormai dall'inizio della Consigliatura senza il piano regionale di sviluppo e con un defro, cioè il documento di finanza regionale, poco aggiornato e poco concertato con il territorio. Per questo motivo anche il Consiglio delle Autonomie Locali che deve esprimere parere obbligatorio sulla manovra di bilancio alla fine ha deciso di non esprimere alcun parere. Si tratta di una situazione grave perché naturalmente la concertazione e soprattutto stabilire criteri certi per la realizzazione delle opere sul territorio è un elemento imprescindibile per garantire da una parte sicurezza laddove ovviamente i soldi devono andare soprattutto a coprire situazioni straordinarie e dall'altra parte parità di trattamento per tutti i cittadini e per tutte le amministrazioni perché Gianni sta facendo invece figli e figliastri. Si, una variazione importante che però testimonia la battaglia che Italia Viva ha fatto, una battaglia che porta in equilibrio i conti della sanità toscana, che tiene in equilibrio le finanze della nostra regione, che dà risposte ai territori, fa investimenti sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche ma che soprattutto non aumenta le tasse ai cittadini toscani. Non era scontato, è una battaglia che arriva da lontano, da quando abbiamo fatto il bilancio di previsioni, sono stati cinque mesi anche di trattativa politica, la nostra fermezza riguardava il fatto che si dovessero trovare le risorse e tenere i conti in equilibrio ma non si dovesse aumentare l'addizionale IRPEF. Questo è stato un motivo del nostro agire, anche per quanto riguarda il bollo dell'auto c'è una fermezza delle nostre posizioni, riteniamo che qualora ci debbano essere manovre debbano andare in maniera espansiva a ridurre la tassazione ai cittadini, non certo da aumentarla, quindi abbiamo dimostrato che si potevano trovare i conti, si potevano trovare le risorse, quindi c'è una modifica del DEF, un DEF che trova un rilancio a questo punto della strategia di programmazione della nostra regione e un bilancio che trova un equilibrio grazie a un lavoro che noi abbiamo fatto e che abbiamo sostenuto per effetto di una battaglia politica che oggi trova il suo culmine in questa approvazione di questa variazione. Sì, approvata la variazione di bilancio, in realtà potremmo dire che sono due variazioni di bilancio perché naturalmente come accade molto spesso a seduta iniziata, la Giunta ha pensato bene di portare un'altra manovra di bilancio dove sostanzialmente si vanno tra l'altro a fare degli interventi, a rimodulare alcune spese che in qualche modo vanno ad incidere sull'impianto originario. Questo naturalmente è un metodo che noi censuriamo perché questo non crea le condizioni per i consiglieri, soprattutto consiglieri di minoranza, di poter avere una istruttoria approfondita su questioni che sono di assoluta rilevanza e che sono appunto contenute su in atti che ci arrivano all'ultimo minuto. Detto questo, l'originaria variazione naturalmente si fondava sulla necessità di riassorbire in qualche modo il debito della sanità, del servizio sanitario regionale. Un riassorbimento che sostanzialmente deriva da una serie di interventi di natura tecnica che però ancora oggi non hanno dato certezze sul fronte del pieno e completo rientro, anche perché le risorse statali non sono arrivate nella misura in cui la Regione si aspettava, sono state inferiori e quindi di conseguenza molto probabilmente ci saranno da fare altri interventi su questo fronte. Per il resto una manovra di bilancio che ricalca ormai una forma, un modus operandi che è noto, interventi legati a singole esigenze dei territori, una mancanza sostanzialmente di organicità e di interventi di tipo strutturale. Noi naturalmente il principio per cui gli enti locali vanno sostenuti ci mancherebbe, lo condividiamo, è chiaro che però gli enti locali vanno sostenuti a tutto sondo e quindi l'intervento singolo in base a chi bussa prima alla porta, ecco questo per noi è inaccettabile. Quindi auspichiamo davvero che questo modo di gestire le variazioni di bilancio e i lavori del Consiglio cambi da parte della Giunta perché altrimenti in una congiuntura internazionale già molto difficile, dove tante aziende e tanti lavoratori ancora sono in una condizione di forte, forte, forte disagio, ecco la politica forse deve fare sicuramente uno sforzo in più. Il Consiglio regionale ha approvato con 27 voti favorevoli e 3 astensioni la proposta di risoluzione per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree insulari. L'atto impegna la Giunta ad una specifica attenzione per promuovere e sostenere lo sviluppo delle isole toscane tramite interventi che garantiscano l'accessibilità territoriale, il sostegno dei sistemi economici, la tutela e valorizzazione delle specificità ambientali, l'accessibilità ai servizi pubblici, in particolare quelli sociosanitari e scolastici, dovranno essere garantiti offrendo livelli adeguati di urgenza e continuità assistenziale anche attraverso il potenziamento dell'ospedale di Porto Ferraio e degli altri centri sociosanitari presenti sulle isole toscane. L'esecutivo dovrà attivarsi nei confronti del Governo sul tema del personale scolastico per introdurre forme di incentivazione a favore dei docenti in servizio nelle scuole delle isole minori di ogni ordine e grado. In Commissione Aree Interne abbiamo voluto approfondire a confronto con i comuni e con i sindaci il tema delle isole dell'arcipelago toscano, che sono un patrimonio straordinario per la nostra regione e dove ovviamente i 33.000 toscani che li risiedono però ovviamente pongono una serie di temi che vanno al di là del flusso della stagionalità turistica. Il Governo ha ricompreso questi territori all'interno della strategia nazionale Aree Interne e questa è sicuramente una buona notizia perché permetterà di aumentare gli investimenti sulla sanità, in particolare c'è il tema dell'emergenza urgenza, ma noi abbiamo posto anche il fatto che una misura che il Governo ha fatto per quanto riguarda la premialità per i medici che vanno a lavorare nelle zone montane venga estesa ad esempio anche alle isole, così come per gli insegnanti. Altra questione è il tema della continuità territoriale, i trasporti. La Regione Toscana ha finanziato negli anni sia il trasporto sul mare che poi gli interventi sulla parte aeroportuale e chiaramente è fondamentale, visto che scadranno le convenzioni, lavorare assieme ai comuni per migliorare ancora di più questi servizi. L'altro tema che ci hanno posto i comuni e che abbiamo accolto è anche quello di avere un luogo permanente in cui questi territori si confrontano anche assieme ai comuni portuali su tutti i problemi e le questioni delle isole minori. PNRR, fondi strutturali, il fatto che le isole siano all'interno delle aree interne darà la possibilità anche in virtù del lavoro che abbiamo fatto in Regione di riservare una quantità maggiore di risorse per le imprese e per i comuni ubicati in questi territori. Noi pensiamo che oltre alla stagionalità, oltre al turismo, questi territori debbano essere presidiati e abbiano molto da dare oltre a questo settore e in questo modo li vogliamo vivere. La nostra risoluzione dà un contributo e dà indirizzi alla Giunta precisi in questa direzione per i prossimi anni. Questa proposta di risoluzione ha avuto un lungo itere in commissione da febbraio che ci lavoriamo, abbiamo udito tutti i sindaci dei vari comuni delle isole e alla fine siamo arrivati a scrivere questa proposta. Noi come Lega siamo abbastanza soddisfatti perché sono stati, diciamo, nella impegnativa, sono stati presi tanti punti che noi avevamo proposto perché le isole sono diverse dalle aree interne, hanno problematiche diverse ovviamente e fra l'altro le nostre isole sono anche molto boscate e poco agricole e hanno il problema del flusso turistico in un certo periodo che è il periodo estivo. I problemi sono ovviamente di sanità, di scuola, di infrastrutture, di acqua, di rifiuti, tantissimi. Quindi si cerca di arrivare ad avere una qualcosa di vantaggio che dia per gli insegnanti ma anche per i medici che dia la possibilità di attrarre un po' di più sulle isole perché alle stesse condizioni che sulla terraferma non ci vengono. E poi una mobilità ovviamente che riguarda sia le navi che gli aerei e infine il discorso ambientale che forse è il più importante di tutti perché c'è un'erosione costiera abbastanza importante. C'è il discorso dei rifiuti, c'è il discorso dell'approvvigionamento dell'acqua e poi in generale anche, devo dire, il discorso degli ungulati. Quindi i problemi sono tantissimi. Noi come Commissione abbiamo dato delle linee guida alla Giunta e speriamo anche con questa introduzione nelle aree interne, con il discorso del resto al sud che è stato fatto per le isole minori anche della Toscana, si possa veramente arrivare a cose concrete. Sì, una proposta di risoluzione rispetto alla quale noi pensiamo che manchino due passaggi fondamentali, premesso che l'arcipelago toscano è a nostro giudizio l'arcipelago più bello del Mediterraneo, ma l'arcipelago toscano è soffocato tra parco e amministrazione carceraria. Quindi noi riteniamo che la Regione Toscana, il Consiglio regionale, se vuole valorizzare e fare un progetto complesso e complessivo sull'arcipelago toscano, non possa evitare di fare una riflessione sulla presenza del parco dell'arcipelago toscano e dell'amministrazione carceraria che di fatto per una cinquantina di ritenuti vieta l'accesso a tutti gli altri su due isole meravigliose quale Pianosa e Gorgona. Il Consiglio regionale dice no a glifosato e con una mozione ha chiesto la sostituzione di questo erbicida e di altri diserbanti nocivi con il cippatino, prodotto formato da scaglie di legno, che previene la crescita di erbe infestanti. A ribadire la ferma posizione dell'istituzione regionale, la Presidente della Commissione Agricoltura, dopo aver letto il parere sul glifosato dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche. Innanzitutto mi preme ribadire che il Consiglio e la Regione Toscana si era già espressa in passato all'unanimità, peraltro in più occasioni contro l'utilizzo del glifosato. Quindi la direzione che ha preso la Regione Toscana nella sostenibilità, nel diritto alla salute, nel garantire un'agricoltura che fosse rispettosa dell'ambiente, prima di tutto per l'uomo, rimane quella. Le indiscrezioni che abbiamo avuto in questi giorni dalla Commissione Europea che si occupa delle analisi chimiche in questo momento non ci sposta, perché la nostra decisione è stata molto chiara e quella che è la nostra volontà come Regione Toscana è quella di continuare su una sostenibilità e su una cura del nostro territorio che parta sia dall'agricoltura e dai prodotti sani, ma prima di tutto dal tutelare l'uomo. Quindi noi rimaniamo fermi su quello che abbiamo espresso in passato e su cui vorremmo continuare, anche perché non è certo, ci sono delle indiscrezioni e non abbiamo ancora la certezza che non sia dannoso per l'uomo e quindi è bene essere molto prudenti. Una prima considerazione ci fa vedere che si tratta di una sostanza che è stata dichiarata lesiva per gli occhi e tossica per la lunga durata per gli organismi acquatici e tuttora nessuno ha smentito questo passaggio. Un lente di ricerca europeo contro il cancro ha dichiarato che molto probabilmente questa sostanza è cancerogena. Adesso arriva un parere che differisce in qualche modo. Io credo che sia necessario a questo punto un approfondimento fatto da un organismo terzo con criteri certi che aiutino a stabilire la reale portata dei danni che provoca il glifosate che in ogni caso esistono al netto del fatto che sia cancerogeno o meno. Ricordo che la Regione Toscana ha investito e sta investendo ancora moltissimo nell'agricoltura biologica e nella tutela dell'ambiente e che in un'ottica che è quella che ci sta richiedendo anche l'Unione Europea cioè di transizione ecologica, sostenibilità ambientale e possibilmente utilizzo il minore possibile di pesticidi, fitosanitari e quant'altro in un'ottica di un ambiente più salutare per la salute umana e ambientale. L'idea di continuare a utilizzare il glifosato nel 2022 è in ogni caso contrario a tutti i principi che in questo momento stanno guidando le politiche nazionali, internazionali e anche quelle della Regione Toscana. Noi ci siamo espressi con atti già nella scorsa legislatura e continueremo a farlo perché l'Unione Europea continua a mantenere questo assetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.